...dei giovani, perché Silvana la cosa che a me piace dire è che comunque ci sono due giovani che arrivano dai talent show, cioè Silvia dal talent show targato Rai 2 che è X Factor e Carta che arriva da Amici, beh questa è una bella cosa... Certo, peccato che non c'è Giuseppe Ferrauto, come dire, la genialità di comunque di tirarla fuori. Ecco, a proposito di Marco Carta, Mario Marco Carta, è amatissimo dai giovani, ma proprio in una maniera straordinaria, devo dire che nella sua semplicità è un ragazzo che non fonda il suo successo sull'immagine, perché è un ragazzo normale come tanti altri, però ha un seguito... Tanta pinzetta, eh? Tanta pinzetta sull'immagine. Io ammiro questo, però è una rivoluzione, perché la pista sottornata... Il bello è questo, scusa, diciamolo pure, ci sono tanti falsi e fasulli inventati inutilmente che poi spariscono subito, allora un giovane che nasce solo sulla forza del suo talento e del piacere che provoca in un pubblico giovane benvenga, che non è il bellone, il tronistone, diciamo, che era molto più violenta. E a proposito di ricarico di talento?